Non siamo di fronte all'escalation di violenza di un marito geloso. I coniugi stavano affrontando un percorso di separazione consensuale e oggi è accaduto l'irreparabile, un epilogo totalmente inaspettato. Sono queste le parole dell'avvocato Paolo Bevilacqua al termine dell'interrogatorio di Dritan sull'Ollari, omicida reconfesso della moglie Migena Chelezzi, uccisa da una coltellata alla gola a gradisca di sonzo nel goriziano. L'avvocato tende dunque ad escludere che la base dell'aggressione ci possa essere il timore da parte dell'uomo di una presunta infidelità della donna, proprio perché erano già state avviate le pratiche per arrivare a un epilogo dell'unione matrimoniale. Migena Chelezzi, di origini albanesi con passaporto italiano, era nel nostro paese da diversi anni. Aveva raggiunto il marito, anche lui albanese, 37enne, che allora lavorava come camerieri in una pizzeria. L'uomo però da alcuni mesi era disoccupato. La donna è stata colpita con un fendente alla gola e al momento del delito, nell'abitazione in un'altra stanza, si trovava anche il figlio di otto anni che stava dormendo. Dopo il gesto, l'uomo ha atteso l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Dopo aver personalmente lanciato l'allarme, assumendosi la responsabilità dell'accaduto, quanto al figlio della coppia, il bimbo è stato affidato a un amico di famiglia, una persona di fiducia che ha evitato l'ulteriore trauma della sistemazione del piccolo in un centro di accoglienza per minori.